Hai comprato gli anelli di totano e non sai come cucinarli? Fali gratinati in forno! Buonissimi e facilissimi, saporiti e li prepari in un attimo. In un boccale di un mixer metti dentro il pane, due fette, prezzemolo, uno spicchio d'aglio e un po' di scorso di limone. Azione al mixer e frulla per bene. Ora pomodorini, lavali per bene e tagliali tutti in pezzetti. In ciotola il pane frullato aromatizzato e i pomodorini tagliati. Parmigiano grattugiato e ora mescola per insaporire il condimento. Metti gli anelli di totano nella ciotola con il resto degli ingredienti e ora mescola il tutto. Teglia con carta da forno un filo di olio. Metti in teglia anche gli anelli di totano. Termina con un filo di olio extravergine di oliva. Ora via a cuocere in forno. In forno a 180 gradi, forno statico, preriscaldato per circa 20-25 minuti. E se volete anche in frigitrice ad aria a 180 gradi per circa 20 minuti. Eccoli pronti, i nostri totani al forno gratinati. Croccanti fuori, morbidi dentro, sono saporiti e buonissimi. Buonissimi! Sì! Sì!